A distanza di tre giorni, due operazioni importanti, tutte e due per la stessa tipologia di reato, usura, usura seglia marina, andrangheta di Isolo Capo del Suto, usura nel territorio del compagnie di Soverato, andrangheta facendo riferimento alla famiglia in Gallagia. Usura, un reato odioso, terribile, del quale abbiamo parlato negli ultimi mesi in modo incessante, in modo preoccupante. È importante sottolineare che tutti e due gli usurati hanno denunciato. Sono rivolte agli usurai per pagare debiti di salute, per pagare debiti economici e attività imprenditoriale andate a mare. Quindi la mafia, l'andrangheta che approfitta del bisogno della gente. È fondamentale e importante capire, sottolineare che la gente si sta fidando di noi, si sta fidando dei carabinieri. Le indagini sono nate proprio perché gli usurati si sono rivolte ai carabinieri sia di servia marina sia di carabinieri di Soverato. Questo è importantissimo per noi perché ci fa dire e ci fa pensare che siamo sulla strada giusta, che la gente crede in noi e noi invitiamo ancora gli altri, tanti altri imprenditori usurati a continuare a fidarsi in noi. Perché siamo in grado, siamo nelle condizioni, siamo capaci di sviluppare le loro denunce e di mostrare poi la penale responsabilità di questi criminali che commettono questo reato così odioso.